Pazzesco incredibile ragazzi avviato l'audio è un pazzo saluto a tutti ragazzi non pazzo che si vede in questo bellissimo nuovissimo Pazzissimo video vi avevo promesso che se il draft con mio fratello raggiungerà i 4000 like lo giocavo e l'abbiamo raggiunti Sì e se non avete visto trovate qua nella scheda e vedete quel video cerchiamo di fare il più vettore possibili così poi avremo i pacchetti Ecco poi la squadretta secondo me questa squadra ci sta Ma diciamo l'indietro non ci sta per niente speriamo bene speriamo bene Speriamo che non fanno i tuoni si spegne tutto ragazzi pollice in su se volete altri video ci vediamo giungere i 2000 like e Hashtag difficile perché ragazzi difficilissimo il gioco stato online contro l'attenzione iscrivetevi al canale se non guardate non avete fatto E seguitemi su Instagram pazzo per contenuti pazzissimissimi speriamo di non perdere subito speriamo un po' Cerchiamo di fare il più partito possibile voglio un premi proprio succulenti Dai metti i piondo fratello ma che stai facendo? Vuoi mettere questo piondo? E che cavolo? Questo ho fatto il draft normale normale che c'è una squadra nel più del mio ma non mi frega Non mi scoraggio Io ti batterò lo stesso Vabbè Ok Tutto bello? Tutto buono? Oh subito Oddio gol! Gol! Adesso i tuoni Quinta adesso Quinta Guardi che è più forte Fai vedere Fai vedere Vai quinta la Quinta la Cazzo è venuto Oh non una squadetta L'ho quinta la veramente Stupenda Andiamo subito a fare la seconda partita ragazzi Mamma mia Mamma mia Dagli ragazzi Forza Mi ha detto Basta Non sono degno di sfidare il dio dei pazzi Quinto Io mi aspettavo che tipo per 12 a 6 la prima partita Invece Invece no Ok campione Che squadra che c'è questo Dio mio Ok Non ti dice questa parola Non ti dice pazzi Non ti dice Devi combatterla Devi combattervi pazzi Forza 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 Non è detta finché non la giochi Eh qua Penso che la prendo in faccia Penso che Ne prendo 10 No Ripro Uuuu Uuuu Ma che cosa Ma cosa vuoi fare Della cacchetta Porta ruota Vai Bale L'hai visto? L'hai visto Bale? Hai visto Bobbo? Vai Lotta Abito Mi ha fermato Abito Ma cosa stai vedendo Abito Bale Forza Vai Come mi ti vuoi Bevissimo Vai Bale Oh 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 No No E che cavolo Che cavolo Che cavolo Che cavolo Tu ti avessi Un'azione Che cavolo E ma che è Questa cosa Ma che è Ambiguo Sto perplesso Occasione buonissima Questo secondo me Si è fatto All'acca sotto Che caspita Vai Mezzo T'ho visto Bobbo T'ho visto Eccolo qua Eccolo qua I gol I gol I gol Mamma mia Bobbone Vieni Che giocatore 1-0 Da sfavoriti Siamo sfavoriti Abbiamo fatto gol Siamo sfavoriti Ma abbiamo fatto gol Pazzuris C'è Pazzuris C'è Pazzuris C'è Uh Quittala Quittala Ok non ho quittato Ragazzi Non ho quittato Vuole giocarsi Significa che Vabbè C'è la scuola più forte Ovviamente Ma A chi Ragazzi Non ci sta l'intesa Comunque C'è Mamma mia Che schifo E no No Uuu Uuu No No Ottie Oddio mio Oddio mio Aiuta Oh Questo è il gol Letto Facile Invece no Oh Eusebio Mbappé Mbappé Mamma mia Meno male Meno male C'è ma come c'è C'è Ragazzi Sembrano super Meno sti giocatori Vicendo su cui potevi C'è Mi sto mandando sulla palla Alcendo all'ore Ma boh Ma non è possibile Che pizze Non da dove ti dirlo Ehi vabbè Calma Lo sta calmo Lo sta calmo Ok Ti prego Mbappé Che ti metto Bella Ok ragazzi Ti prego Ti prego Vai 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 Lotto Lotto Ti prego Mamma mia Che ti ho fatto Mamma mia Mamma mia Ragazzi Attenzione A mia squadra Si sta svegliando Bello Ma come faccio Attiva da là Ma io sono stupido Calma 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 Messi Eusebio Quando è fatto Eusebio A me non è detto Vediamo Non è detto Con come possiamo farcela Bello Bello Fallo No Bianco 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 Guarda che Intensate Facendo questi Tutti uguali Ragazzi Questo Ti fa Tutti uguali Grazie Gol di testa Che Sto Mesti Di testa Che sto Vedendo Che sto Vedendo Bello 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 Si è scordato Come si gioca A calcio Ti va Le pappette Manco Stai giocando Quei pulcini Ma Ma Così È finita Non so più che fare Non so più che fare Questo c'è un squadrone Credo Credo Che vorrà Quello Che ha Combi Vieri Mi metto a piangere Mi metto a piangere Vai Nè 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 Ti posso sbagliare Se cose Cavolo Arriva l'intervento Dell'arbitro Non ci sarò dubbi Qui Abonizioni Lo dottore Che finisce la tia Cos'era per i pacchetti Almeno Fiamano A giochi Nei pacchetti Cioè Questo Cioè La prende sempre Lui Di testa Incredibile Ragazzi C'è una squadra Proprio Scazza E stiamo pure A vincere Io so Come stiamo A far vincere Clap Crap Crap È Finita Ma che sei più forte Mamma mia Mamma mia Che sei forte Wow Mi vediamo un po' nei pacchetti Cosa esce Dai Una vittoria Abbiamo fatta Che ha quitato subito Diciamo che vuole il doppio 15.000 crediti Di draft Per questo schifo Già so che non esce niente Ecco perché Mai abbio Perché fanno schifo Sti pacchetti Ma che pacchetti So Che pacchetti Sono Manco si aprono Mangoli voglio vedere Mangoli voglio vedere Ma chi è Mi è da piangere Non potrebbe essere Benissimo Un video Però non Abbiate i challenge Che tanto Lo vedevo Perché l'ho perso Tata Asanu Per lei Ancora esiste Più la maglia Il maglio Il monaco Di tutta la squadra Non esce manco qua Qualcosa Che cavolo Perché Dove essere Meglio di tutti quanti Non si è manco aperto Non si è manco aperto Non si è manco aperto Non si è Manco Ma schifo Spero che questo video Vi sia piaciuto Ovviamente Io scherzo Non è che Sono Ah Ricordo che il canale Si chiama Pazzo Viste Il nostro video Ragazzi Qua Se no Facco qualcosa Bello Ovviamente Vi voglio bene Lasciate like Un commento E iscrivete al canale Ciao A presto